MAKER ci ha appena mandato PL2Z mount, molto interessante anche perché c'ha il drop in interno, il drop in per i filtri. Apriamolo subito, all'interno abbiamo il mount PLZ, un filtro ND variabile e un filtro clean, vuol dire che è trasparente. Anche due brugolette per andare a stringere tutti i vari innesti. Voglio spendere due parole su questo filtro adattatore PL2Z mount perché davvero ci dà la possibilità al nostro team di utilizzare lenti PL sul corpo Z che sappiamo già, come ho già detto nei miei scorsi video, che potete andare a vederne nel canale, offre una qualità video eccellente anche perché appunto registra in RAW. In sé il mount si presenta bene, è solido, come chi conosce il PL praticamente non bisogna avvitare o comunque sia fare un mezzo giro la lente, ma solo a lock. Praticamente il lock va a bloccare la lente e la lente viene inserita in modo frontale, in questo modo qua. Questo specifico modello è molto interessante anche perché ha gli ND o i filtri integrati. Questo ci velocizza molto sul set perché quando si va a cambiare lente non dobbiamo smontare i filtri dalla lente in sé. L'ND che viene dato in dotazione col mount è un ND variabile. Come sappiamo questo genere di ND spesso restituisce dei colori non fedeli o soffrono di IR pollution. Questo in particolare lavora abbastanza bene e devo dire molto meglio di altri ND variabili drop-in che ho utilizzato in passato e che tuttora ho. È un mount per un attacco RF che uso su red ma non voglio andare a specificare brand e così via. Diciamo in generale si comporta meglio di altri brand. Ci hanno mandato altri due filtri drop-in. Uno è white streak e l'altro è rainbow streak. Ve li faccio vedere. Sono molto interessati perché creano un effetto flare particolare che si avvicina molto a quello delle lenti anamorfiche. Qui abbiamo tutta la sua scatolina. Voilà. Come potete vedere tutte le lignette sono bianche. Una cosa bellina che si può utilizzare sia in verticale che in orizzontale o anche in diagonale. In base al look che volete ottenere, alla luce che c'è e al flare che volete restituire all'immagine. L'altro è identico ma con rainbow streak. E sarebbe praticamente avere queste lignette colorate che partono dai colori più caldi fino ad arrivare più freddi. I filtri si possono sostituire per un millimetro molto facilmente anche con un cage inserito. Questa non è una cosa da sottovalutare. Io sopra la Nikon Z8 ho un cage small rig. Penso che ce ne sia solo uno quindi non potete sbagliare. E i filtri si possono cambiare anche col cage montato. Sono anche molto contento di vedere Make e anche altri brand che si dedicano appunto alla Nikon, ai corpi Nikon e al Z-Mount. Ci sono certi obiettivi cinematografici che vengono prodotti solo con attacco PL. L'attacco PL è uno standard per le produzioni video per via della sua comodità, robustezza e sicurezza sul set. Non c'è nulla da dire in particolare perché in sé non presenta nessun tipo di difetto. Il lock è bello solido, molto solido. E anche la parte quella che combassa direttamente sulla Nikon è molto molto steady, molto molto solida. È un prodotto costruito bene e funziona bene. Quello che può cambiare la nostra immagine di certo non è Mount. Il Mount ci aiuta ad adattare le enti cinematografiche sulla nostra Nikon. Quello che va a cambiare l'immagine sono i filtri che sono inseriti all'interno. E Make ne produce tantissimi come il Promist e tanti altri. Questi Strake, Rainbow e White Strake. Chiaramente noi abbiamo fatto dei test veloci per ora. Non li abbiamo ancora utilizzati su un vero e proprio set, ma lo faremo. Qui possiamo vedere il footage. Vediamo che nel flare del sole si vedono i streak del filtro. Abbiamo utilizzato sia il Rainbow che il White. A noi personalmente piace più il White. In queste prove abbiamo visto che utilizzando il filtro a diaframma chiuso vediamo anche le linee verticali quando posizioniamo lo streak in orizzontale. A prendere il diaframma invece questa cosa si va a eliminare. Non funziona bene su tutto, secondo me. È un effetto molto forte. Anche Jacopo comunque si concorda con me che va bene per determinati progetti. Personalmente pensiamo che lavora meglio sui dettagli, è più affascinante. Anche perché lo streak va quasi a influire sul soggetto in primo piano in maniera molto romantica, molto carina. E quando si utilizza senza un punto luce direttamente in camera abbiamo un effetto più glow con questi raggi che si percepiscono molto molto meno. È molto molto più delicato l'effetto e più utilizzabile. Noi non l'abbiamo provato a luce finestra, o meglio, l'abbiamo provato ma non l'abbiamo inserito nel video. Però a luce finestra utilizzando lo streak in diagonale potrebbe quasi simulare i raggi del sole che entrano dall'esterno. E potrebbe essere un effetto molto carino. Abbiamo visto di notte che con tutti i punti luci dei lampioni fa un effetto molto invasivo. Quindi va bene per progetti specifici. Sui primi piani a me personalmente piace molto perché rende tutto un pochino più romantico, a mio avviso. A noi piace. Non è un filtro che sicuramente si lascia inserito sempre perché va bene su tutto. Anzi, magari va bene su progetti mirati come abbiamo detto. In più aggiunge quel carattere alla lente solo quando vogliamo aggiungerlo. Perciò se noi abbiamo una lente pulita, montata sul nostro mount, possiamo andare ad aggiungere il carattere alla lente utilizzando questi filtri. Cosa molto molto interessante. Spero che sia stato utile. Se avete domande, fateli qua sotto nei commenti oppure su in DM a me o a Jacopo e vi risponderemo. Peace! Ciao! Ciao! Grazie a tutti